Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabianBrosi.it è vero, è vero, è vero, è passato molto tempo dall'ultimo video tutorial me ne scuso, ma chiaramente gli impegni della vita quotidiana hanno preso un attimino a sopravvento ma non vi preoccupate perché recupereremo immediatamente con un blocco di diversi tutorial che poi in realtà sono un unico grande tutorial diviso in più parti perché dopo aver parlato degli effetti video, del come realizzare transizioni ed effetti video in Adobe Premiere vedremo nelle prossime lezioni, o meglio nelle prossime micro lezioni, alcuni esempi così che possiate rendervi conto di come alcuni effetti apparentemente complessi in realtà possono essere eseguiti con pochi click e soprattutto vedrete come gli effetti possono sembrare limitati almeno quelli di default di Premiere ma che se usati bene e usati soprattutto insieme aggiungendo effetto ad effetto ecco, possono essere create delle cose molto interessanti anche con gli effetti disponibili di default in Adobe Premiere prima però vi ricordo per tutti gli articoli anche e soprattutto delle lezioni precedenti di venire a visitare il mio sito internet www.fabioambrosi.it e vi consiglio se volete anche di registrarvi a questo canale YouTube così da non perdere le prossime uscite prima di iniziare con i tutorial veri e propri però delle raccomandazioni ovvero io prima di affrontare queste lezioni vi consiglio di essere sicuri di aver compreso e di saper utilizzare già bene le tematiche di saper padroneggiare bene le tematiche già esposte nelle lezioni precedenti in particolare vi consiglio di guardare bene tutta la parte dedicata al pannello controllo effetti dovete essere in grado di individuare dove sono collocati tutti gli effetti dovete essere in grado di applicare gli effetti alla clip desiderata e soprattutto dovete saper utilizzare discretamente bene diciamo gli effetti di base che abbiamo visto quindi la posizione, la scala, la rotazione e dovete quantomeno aver capito e avere un po' di dimestichezza con il pannello controllo effetti e con il pannello effetti se avete qualche dubbio vi consiglio di tornare alle lezioni precedenti guardare i vecchi tutorial leggere gli articoli sul sito e poi ritornare a questo tutorial che è un po' diciamo così la conclusione di un piccolo percorso molto semplice, molto veloce sugli effetti disponibili in Adobe Premiere non perdiamo altro tempo nella prossima lezione cominceremo a vedere il primo effetto chiamiamolo così che affronteremo in questa tranche di tutorial ovvero come ritagliare un video come proprio tagliare una porzione di immagine di una clip video al prossimo tutorial di un'o' di un'emozione e un'umiltà di immagine di un'o' di un'emozione